Per il presidente cui piaceva l'oratoria e la politica show, c'era anche qualche incidente di percorso, come quando presenzia la Scala di Milano a un concerto in onore di Charles de Gaulle. Nel palco d'onore un valletto inesperto non avvicina la poltrona in tempo e Gronchi fa un presidenziale capitombolo all'indietro. Nel teatro si leva un oh di ansia e qualche risolino trattenuto in gola. Solo il pronto intervento di Giovanni Leone, presidente della Camera, gli consente di rialzarsi. Grazie a tutti.